Sono trascorsi 100 giorni dall'inizio della pandemia ed ora l'Italia entra nel pieno della fase 2. A Cremona ci sono state oltre 1.100 morti dal 21 febbraio ad oggi. Il bollettino giornaliero della regione di ieri rileva 11 nuovi casi positivi. Il totale dunque sale a 4.459. Nelle ultime 24 ore è stato inoltre registrato un decesso nel cremonese. In totale sul territorio Lombardo sono stati accertati 210 contagi in più su 12.427 tamponi elaborati. Dall'inizio della pandemia sono stati 88.968 malati di Covid, mentre attualmente la regione ne comunica poco meno di 21.000. Intanto, dopo le varie aperture scaglionate di attività commerciali, aziende, uffici e servizi, si attende il 3 giugno per l'apertura dei confini tra le regioni e la ripresa dei collegamenti che riuniranno nuovamente l'Italia. Stop alle autocertificazioni alla quarantena. Controlli della temperatura verranno però effettuati in tutti gli aeroporti e nelle principali stazioni ferroviarie. Restano poi alcune misure. Il distanziamento sociale e l'utilizzo della mascherina, che resta obbligatorio anche all'aperto fino al 14 giugno in Lombardia. Vietati gli assembramenti, quindi se proprio non si può fare a meno di Movida ed Happy Hour, occorre mantenere le distanze, altrimenti si rischia di pagare multe salate da 400 fino a 3.000 euro. Grazie. Grazie.